Londra 2017, Eugene 2022 e Budapest 2023 è il terzo mondiale di Francesco Fortunato e la terza rassegna iridata di atletica leggera che vedrà per protagonista il campione andriese. L'appuntamento è fissato per domani mattina alle ore 8 e 50 quando scatterà la 20 chilometri di marcia iridata. Il 28enne porta colori delle fiamme gialle e pronto per mettere la ciliegina sulla torta. Ad un 2023 si inquis trepitoso ha vinto in pratica tutto quello che c'era da vincere. Ha tagliato il traguardo sempre per primo in questa stagione vissuta da assoluto protagonista in Italia e non solo. In giro per lo stivale infatti ha piazzato un clamoroso trist negli assoluti. Ha primeggiato ad Ancona nei 5.000 metri al coperto, ha dettato legge a Frosinone nella 20 chilometri e ha completato l'opera il mese scorso sulle strade di Molfetta nella 10 chilometri aggiornando il suo palmares a 14 titoli assoluti. In mezzo poi ha fatto il fenomeno anche oltre ai confini italiani, il primo sportivo andriese della storia a partecipare ai giochi olimpici. Nel mese di maggio infatti Fortunato ha vinto a Podebradi in Repubblica Ceca con una prestazione cronometrica superlativa la 20 chilometri dei campionati europei di marcia a squadre, il tempo di 1 ora 18 minuti e 59 secondi inoltre. Gli ha consentito di polverizzare il precedente primato personale sulla distanza e soprattutto di ottenere con più di un anno di anticipo lo standard di partecipazione per Parigi 2024. Le olimpiadi tuttavia possono attendere. Fortunato vuole lasciare il segno ai mondiali di Budapest. All'esordio è ridato, sette anni fa è arrivato 25 a Londra, lo scorso anno invece ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione a Eugene, bissando il piazzamento dell'anno precedente a Tokyo 2020 più 1. La concorrenza, inutile nasconderlo, è aggueritissima ma è giusto per quanto fatto vedere nell'arco di questa stagione alzare l'asticella delle ambizioni e puntare almeno un posto nella top 10. Fortunato ci spera e ci crede, idem l'altro fuoriclasse pugliese della marcia italiana Massimo Stano da Palo del Colle, campione olimpico in carica della 20 km. Domenica mattina sulla stessa distanza ma al Femile. Toccherà invece ad un'altra pugliese d'oro a Tokyo, Antonella Palmisano da Motola. Ci sarà sicuramente da divertirsi.